Non c'è davvero tempo per gioire per il primo successo in campionato in casa Fidelis, visto che ci si è rapidamente proiettati al derby del mercoledì contro il Foggia, non una gara come le altre e che torna tra i professionisti dopo praticamente cinque anni. Alla vigilia resta un pizzico di rammarico al tecnico Gigi Panarelli per l'impossibilità di metabolizzare al meglio il successo di Campobasso. Mi dispiace anche non godere di questa prima vittoria, però il calendario ci dice questo e non ci possiamo rilassare e quindi già da domenica sera stiamo pensando a come affrontare e in che maniera e con che strategia questa squadra che reputo una delle squadre più forti del campionato. Si gioca di strategia non potendo ancora contare su di una condizione fisica e tattica al top, visto il grande ritardo di preparazione lo si è visto a Campobasso, dove ad un primo tempo più guardingo è seguito un secondo tempo decisamente più propositivo. Al di là del gioco, poi sai, più bello il gioco più è la possibilità e più alta la percentuale di portare a caso il risultato. Però nello stesso tempo non esiste solo una vittoria o un risultato positivo esprimendo un grande calcio. Alla fine ci sono delle strategie, ci sono delle caratteristiche che magari ci possono aiutare a fare il risultato stesso applicando o cercando di sopperire a quelle che sono le condizioni che tutti quanti noi sappiamo. Due filosofie di gioco abbastanza diverse, in una sfida che vedrà però di fronte anche un'icona del calcio come Zeman e un allenatore giovane come Gigi Panarelli. Mister Gemma, già a pronunciarlo, sappiamo che quello che è dato al calcio italiano in genere, sappiamo che allenatore è e che allenatore è stato e quindi io sono solo onorato di affrontarlo da allenatore, se si può dire questo perché io sono le prime armi e so che di fronte troviamo un maestro, però nello stesso tempo la rivalsa magari di un risultato che domenica scorsa non è stato positivo per loro di portare a casa la vittoria. Sappiamo di trovare una squadra importante, sappiamo di trovare una squadra di elementi importanti. Sappiamo anche che il gioco del Foggia è un gioco propositivo, è un gioco veloce dove partecipano le catene. Sappiamo di affrontare una squadra importante, una squadra dove magari può essere anche una sorpresa di questo campionato, però temere non fa parte del nostro vocabolario, noi rispettiamo tutti. La Fidelis ha annunciato in settimana l'ultimo arrivo a Zampano che però non sarà a disposizione del match contro il Foggia. Si monitora anche qualche calciatore uscito malconcio dalla gara di Campobasso. Con i satanelli al Degli Ulivi si giocherà alle ore 18, in un incontro che ha precedenti anche in Serie B e che non ha mai tradito le attese. 11 incontri ad Andrea con 4 successi biancazzurri, 3 foggiani e 4 pari, ultimo in ordine di tempo due anni fa in Serie D con il gol di Cittadino che decise la gara in favore degli ospiti.